Buonasera e ben ritrovati in diretta su Udinese TV. Apriamo questa nostra edizione del telegiornale innanzitutto con un veloce aggiornamento sul fronte del traffico autostradale. Parliamo dell'A23 perché in conseguenza di un incidente che si è verificato nella serata intorno alle 18.35 appunto in A23 al chilometro 32 nel comune di Pagnacco ci sono stati diversi disagi per il traffico e stando alla nostra fonte ci sono ancora. Innanzitutto cos'è successo? Nella careggiata nord si sono scontrati dunque al chilometro 32 un mezzo pesante poi andato a fuoco e un'auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma dunque disagi anche forti al traffico nel tratto tra Udine Nord e Gemono Soppo appunto per le necessarie attività di ripristino della sicurezza dell'area sono state temporaneamente chiuse le careggiate poi riaperte però appunto fino a una ventina di minuti fa risultava ancora il traffico rallentato pesantemente in conseguenza di questo incidente. l'incendio è stato il rogo è stato ovviamente spento già nelle scorse ore ma vedete appunto il tratto coinvolto che ha richiesto e sta richiedendo anche adesso le ultime attività di sistemazione dell'area. Spostiamoci adesso a Milano e dopo a Roma perché è stato depositato a Milano appunto dai legali di ArcelorMittal l'atto per il recesso dal contratto di affitto preliminare all'acquisto dell'ex ILVA. domani il presidente del tribunale assegnerà la causa e i sindacati scrivono all'azienda il recesso non fermi il confronto. L'ILVA deve continuare a produrre il governo impegnato collegialmente per questo obiettivo ha detto dal canto suo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri chiedendo il rispetto degli accordi e l'individuazione di una soluzione sostenibile di mercato. Il premier Conte ha scritto ai suoi ministri invitandoli ad aprire un cantiere taranto per il suo rilancio con tutti gli attori istituzionali ed è spuntata come a riassume l'ANSA l'ipotesi di rafforzare i presidi sanitari nella città pugliese. Tony Accesi e Un Clima Atteso hanno segnato la riunione del premier Conte con i parlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle che si è chiusa appunto la riunione con una sostanziale fumata nera sulla questione dello scudo penale dunque per Arcelor Mittal. Luigi Di Maio nelle scorse ore ha affermato non possiamo rimanere ostaggio di un'azienda, Mittal deve rispettare gli impegni presi, lo Stato si farà rispettare. Continuiamo a parlare del premier Conte perché ha convocato per giovedì pomeriggio un maxi vertice di maggioranza sui tempi e i modi di discussione della legge di bilancio. Il ministro dell'economia Gualtieri in audizione sulla manovra appunto audizione davanti alle commissioni bilancio di Senato e Camera riunite ha affermato il governo ha grande disponibilità al dialogo e al confronto, penso e auspico che il lavoro parlamentare possa migliorare ulteriormente la manovra salvaguardando l'impianto e gli obiettivi. Tra i vari aspetti si è parlato molto anche in queste ore del rafforzamento del bonus per gli asili nido che consentirà, come ha detto Gualtieri, la sostanziale gratuità degli stessi per la grande maggioranza delle famiglie italiane già dal primo gennaio. Per il ministro si può rimodulare la plastic tax ma va affermato l'abuso della plastica monouso. In quanto poi a Banca Italia ha affermato la lotta al contante può ridurre l'evasione e la stima del PIL a più 0,6% per il 2020 e condivisibile. Italia viva all'attacco, stop dice all'inasprimento del carcere per gli evasori. Parliamo anche del maltempo che sta colpendo le diverse regioni, tra cui anche il Friuli Venezia Giulia, ma anche il Veneto. Venezia infatti sotto 127 centimetri d'acqua oggi e poi scuole chiuse a Matera, una tromba d'aria c'è stata vicino a metà ponto, vento fortissimo fino a 113 km l'ora in Calabria e 170 mm di pioggia in 12 ore, emergenza anche in Puglia, in particolare nel Salento. Come detto il maltempo ovviamente l'abbiamo visto, ha colpito anche il Friuli Venezia Giulia, vigili del fuoco sono anche in questo momento operativi per vari allagamenti sia a Grado che a Lignano e la Tisana. In condizioni stabili e dimessi dall'ospedale Roller 3 di Baghdad, i cinque militari italiani vittime dell'attentato dello scorso 10 novembre stanno rientrando in Europa e quanto ha comunicato nel pomeriggio in un nota al ministro della difesa Lorenzo Guerini, previsto l'arrivo a Rammstein in Germania, presso l'ospedale militare della base aerea degli Stati Uniti, dove appunto i militari riceveranno le migliori cure specialistiche prima del loro rientro in Italia. Due militari italiani sono rimasti feriti non gravemente invece in un attacco di pirati nel Golfo del Messico ad una nave italiana. Si tratta della nave Remas, nave di rifornimento per le piattaforme petrolifere offshore di proprietà della Mico Peri, azienda con base a Ravenna. L'equipaggio però, nove italiani a bordo, ha respinto l'assalto. Uno sguardo veloce per gli esteri anche rispetto alla Spagna, perché il leader socialista spagnolo e premier in carica Pedro Sanchez e il leader di Podemos Pablo Iglesias hanno raggiunto oggi e firmato un preaccordo per la formazione di un governo di coalizione. Sanchez lo ha definito un accordo di legislatura per quattro anni. Le due forze politiche di sinistra dovrebbero dunque formare il prossimo governo spagnolo, ma non avranno l'appoggio né di Sudadanos né del PP. Veniamo ora in Friuli Venezia Giulia, perché in particolare a Udine, perché rimane dunque in carcere a Udine Massimo Blasoni, coinvolto nell'inchiesta per una presunta truffa ai danni del sistema sanitario di diverse regioni. Il Tribunale del Riesame infatti ha respinto l'istanza presentata dal legale dell'imprenditore fondatori della Serenio Orizzonti, dunque dal legale Luca Ponti, che aveva chiesto gli arresti domiciliari appunto per Blasoni. Resta in carcere anche Iudimila Iani, direttrice di varistruttura appunto della Serenio Orizzonti. Vediamo il servizio. Rimane in carcere Massimo Blasoni, coinvolto nell'inchiesta per presunta truffa ai danni del sistema sanitario in diverse regioni italiane. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha respinto l'istanza presentata da Luca Ponti, difensore del titolare del gruppo Serenio Orizzonti, per il quale erano stati chiesti gli arresti domiciliari. Il Riesame ha colto invece le tesi della procura rappresentata dal PM De Franceschi, che si era opposta alla concessione dei domiciliari. Revocate invece le misure cautelari a carico di Marco Baldassi, braccio destro di Blasoni, assistito anche lui dall'avvocato Ponti. In giornata si è svolta nel capoluogo regionale l'udienza davanti al Riesame per le sei persone coinvolte nell'inchiesta che ha scosso il sistema dell'assistenza agli anziani in Friuli. Eccezione fatta per Baldassi, tutte le altre stanze sono state respinte. Rimane in carcere dunque anche Iudmilla Iani, direttrici di varie strutture per anziani in altre regioni d'Italia. Blasoni e Iani sono dunque gli unici ancora in carcere da quando sono scattate le misure restrittive per le nuove persone coinvolte nell'inchiesta una ventina di giorni fa. La parte sua è il legale di Blasoni. Ponti attende ora le motivazioni della sentenza per preparare poi la strategia difensiva. Sentiamo dunque le parole delle legale difensore di Massimo Blasoni, appunto l'avvocato Luca Ponti. Ovviamente sotto il profilo del commento critico non posso ancora esprimermi non conoscendo le motivazioni. Sotto il profilo diciamo così più strettamente umano sono ovviamente molto contento per Marco Baldassi che ha dimostrato evidentemente la sua posizione al punto da determinare riesame a concedere immediatamente la sua liberazione. Sono invece molto deluso e ovviamente dispiaciuto per Massimo Blasoni che invece l'hanno respinta insieme a tutti gli altri. Confido di trovare delle soluzioni che possano consentire di superare questa impassa alla sua libertà personale. Quindi i vostri prossimi passi adesso quali saranno? Beh sicuramente leggere le motivazioni per leggere i punti critici quali sono e dove c'è la nevralgia del dolore e dell'incomprensione e trovare delle soluzioni di risposta a questo. Ritorniamo a parlare purtroppo di incidenti stradali perché in redazione c'è appena aggiunta la notizia dalla stradale di Trieste di un incidente mortale che si è verificato poco fa attorno alle 22 lungo il raccordo autostradale ad altezza di Sgonico direzione capoluogo Giuliano. Un mezzo pesante sarebbe appunto coinvolto nel sinistro un pezzo del quale si sarebbe staccato finendo in mezzo alla careggiata a causa del violento impatto. Non si hanno al momento ulteriori dettagli si sa solo che il traffico interessato all'aumento è inibito al traffico veicolare per permettere i rilievi di rito e i soccorsi. Sul posto ci sono ANAS, Polizia Stradale, 118 i Vigili del Fuoco. Ovviamente se ci arriveranno elementi ulteriori rispetto alla dinamica al sinistro in questione ve li renderemo noti nel corso di questa diretta. Parliamo ora dei carabinieri della Compagnia di Sacile che hanno denunciato per truffa aggravata 17 persone residenti in tutta Italia già noti per lo stesso reato, ossia per la cosiddetta truffa del postamat. I carabinieri della Compagnia di Sacile hanno denunciato per truffa aggravata 17 persone residenti in tutta Italia già noti per il medesimo reato per la cosiddetta truffa dei postamat. Le vittime residenti tra Sacile, Brugnera, Godega di Sant'Urbano e Gaiarine che avevano posto in vendita materiale online venivano contattate da sedicenti compratori che le convincevano a procedere con il pagamento attraverso un collegamento diretto con gli sportelli postamat. Ma il risultato dell'operazione era l'opposto di quanto desiderato. Il venditore invece di ricevere un accredito della montare pattuito veniva truffato con addebiti per la medesima cifra e a volte per importi anche molto superiori. Tra i casi più eclatanti una donna di 30 anni di Venezia che ha truffato 1000 euro per l'acquisto di una stufa a legna che ha perso 1.339 euro per quattro pneumatici con cerchione, un uomo di 51 anni di Rovigo per 2.300 euro di una bicicletta in carbonio e così via fino a un giovane di 31 anni di Dolo che ha perso 3.400 euro per un asciugamani il cui prezzo pattuito era di soli 40 euro. Ritorniamo a parlare di incidenti stradali dunque vi abbiamo detto all'apertura di questo telegiornale dell'incidente che si è verificato in A23 nel tratto nel comune di Pagnaco a chilometro 32 in A23 dove sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Il mezzo quest'ultimo ha preso fuoco, un mezzo pesante però appunto per fortuna non ci sono stati feriti. Sempre in A23, sempre intorno ai 18.30 quando si è verificato appunto il primo incidente, si è registrata anche una fuoriuscita autonoma di un'auto a Tarvisio nei pressi della Galleria Sant'Antonio. Una persona è rimasta ferita. Intanto ringrazio la regia che ha messo il sito di info viaggiando per cui al momento, almeno adesso, non risulterebbero forti criticità come vediamo nella circolazione stradale anche in conseguenza dell'incidente, soprattutto del primo di cui vi abbiamo detto, avvenuto appunto al chilometro 32 dell'A23 che ha coinvolto il mezzo pesante e l'auto. Continuiamo però a parlare di incidenti stradali perché spostandoci dall'A23 e spostandoci a Udine si è verificato un incidente appunto poco prima delle 19.30 anche nel centro città per la precisione all'incrocio semaforico tra Viale Venezia e Viale Firenze. Vediamo la foto di riferimento. Si sono scontrate due auto, su una stava viaggiando un uomo anche con due bambini, nessuno è rimasto ferito per fortuna in modo rilevante, anche i bambini sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso e come appunto ci ha confermato la polizia locale stanno bene. E sono rimasti tutti illesi, anche i sei bambini che viaggiavano a bordo di uno scuolabus rimasto coinvolto invece nel pomeriggio in un sinistro, in un incidente con un auto accaduto lungo la provinciale 63 a Usoppo. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30, lo scuolabus che stava riportando a casa gli alunni delle scuole primarie dopo le lezioni, stava viaggiando in direzione nord e nella corsia opposta è sopraggiunta un'auto condotta da un 38enne che per cause che stanno ovviamente accertando i carabinieri della compagnia di Tolmezzo avrebbe dunque urtato lateralmente lo scuolabus. Sia i bambini che l'autista non hanno riportato conseguenze dunque nell'impatto la sola conducente dell'auto è rimasta ferita lievemente. Diamo anche notizia di un investimento pedonale che c'è stato a Udine nel pomeriggio intorno alle 18.15, come riferisce la polizia locale, un'auto che stava percorrendo via Gorizia in direzione periferia giunta in prossimità dell'incrocio con via Monte Mangar, per caso ancora da chiarire, ha urtato un pedone, una donna per la precisione di 65 anni che stava attraversando la strada, sul posto ovviamente intervenuta il personale sanitario che ha trasportato con l'autoambulanza al pronto soccorso la donna, non si sa, risulterebbe non ferita gravemente, stando a quanto ci hanno riferito appunto gli operatori della polizia locale. Ovviamente questi incidenti non sono stati favoriti nella prevenzione dal maltempo che sta imperversando, come detto, anche sul Friuli Venezia Giulia, acqua alta sulle coste e neve in montagna, sono i volti opposti del Friuli, colpito dunque da una nuova andata di maltempo che avrà la sua fase più acuta proprio questa notte, protezione civile in allerta, poco prima di andare in onda abbiamo sentito i dirigenti del fuoco che ci hanno confermato gli interventi dunque in corso, come preannunciato anche a Grado, alla Tisana e a Lignano per gli allagamenti anche delle strade. Noi rivediamo quanto è successo nelle scorse ore nel servizio. È incominciata alle 18 la fase acuta della nuova ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione da stamattina e continuerà a tenere sotto scacco l'intero territorio dai monti al mare fino a domani mattina alle ore 9. Vento forte, mareggiate con picchi di marea, acqua alta, precipitazioni intense e con possibili locali e situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano. Precipitazioni a carattere nevoso sono i fenomeni annunciati dal bollettino della protezione civile regionale che è in allerta con la sua centrale di Palmanova e la squadra dei volontari presenti sui comuni. L'acqua alta ha già fatto la sua comparsa stamattina tra Trieste, Grado e Lignano e proprio a Grado abbiamo raccolto le indicazioni della squadra locale di protezione civile. La qualta che ci aspettavamo stamattina è arrivata, si sapeva che Venezia era 1,40 quindi noi qua siamo arrivati a 1,22 che ha l'ambito solo la riva Bersalieri sulla careggiata come previsto. Adesso aspettiamo l'ondata di questa notte. Quindi per ora non ha fatto i temuti danni? No, per ora tutto tranquillo, la viabilità è stata aperta senza problemi e il problema grosso che abbiamo noi è che quando viene fuori l'acqua alta si blocca il centro perché viene chiuso l'unica strada che abbiamo. Quindi le zone più a rischio grado sono proprio quelle centrali? Sì, zona porto, zona colmatta e stazione delle autocorriere. Avevamo grossi dubbi questa mattina perché ce l'aspettavamo per le 8 con le scuole aperte ma in realtà non si è verificato quindi è andato tutto normale. A che ora stasera potrebbe esserci l'acqua alta? Diciamo che il picco delle maree normali ce l'abbiamo alle 21,40. Se dovrebbe uscire l'acqua diciamo che già dalle 9 dovremmo avere sentore. Difatti il gruppo di grado ha aperto un canale di telegram che tutti i cittadini si possono iscrivere e in automatico arrivano tutti i messaggini con la viabilità o se l'acqua esce. In montagna torna a nevicare inizialmente dai 1.500 metri per poi scendere agli 800. Il pericolo valanghe sarà marcato su tutto il territorio montano con quantitativi di neve che localmente potranno superare i 50-70 centimetri. E dall'account Facebook della protezione civile di Lignano Sabbiadoro vediamo anche questo post aggiornato alle ore 21.50 appunto dove la protezione civile avvisa che è appunto in corso una traciumazione delle acque lagunari in zona porticiolo dei residenti. Le acque hanno già invaso le careggiate delle vie a Tigue. Ha scritto appunto alle 21.50 la protezione. È stato convocato il centro operativo comunale. Sono monitorate anche tutte le darsene e la litorane a Veneta si invita a ristare nelle proprie abitazioni per facilitare le operazioni di chiusura a strade ed eventuali soccorsi. E poi ovviamente la protezione civile renderà nota anche attraverso questi canali social tutti gli aggiornamenti per la popolazione coinvolta da questi allagamenti. Rispostiamoci a Udine. Quasi 3 milioni di euro per rifacimento di asfalti, porfido e marciapiedi. L'amministrazione comunale continua a investire sul miglioramento delle vie e delle strade cittadine. Il maltempo però rischia di prolungare ulteriormente il cantiere di via Mercato Vecchio per cui sono stati spesi altri 200 mila euro. Sindaco, investimenti importanti in arrivo per la città di Udine a partire dagli asfalti e dei marciapiedi ma non solo? Sì, abbiamo deciso anche di continuare con il porfido, quindi le vie del centro città, via Vittorio Veneto, via Gemona, completamento, via superiore per citare alcune delle più importanti vie che sono pavimentate a porfido. Lo stiamo sostituendo perché vogliamo che sia più resistente al traffico, nel senso che con questa colla a resina che viene messa tra i cubetti c'è la garanzia che non si muovono più i cubetti e quindi non si creano questi avvalamenti che purtroppo hanno creato in alcune vie dei avvalamenti, insomma delle difficoltà nel passaggio. È un'opera che ci impegna parecchio perché tra asfalti, tra porfido siamo sui due milioni, poi abbiamo messo un altro milione per i marciapiedi, anche questa è una cosa importante perché i cittadini in alcuni casi si trovano con dei marciapiedi, con delle buche, con delle radici e quindi una situazione di impercorribilità e quindi dobbiamo rendere i marciapiedi più sicuri perché la gente non rischi di cadere. Anche questo è un lavoro importante, come anche sarà importante la creazione di nuovi marciapiedi. Qui vorremmo da parte dei proprietari dei sedimi, perché molti dei luoghi non sono i proprietari del Comune ma sono dei privati, utilizzati lo stesso così per il parcheggio della macchina all'esterno dell'abitazione, trovare degli accordi bonari per non spendere tanti soldi negli espropri. Infine altri 200 mila euro per via Mercato Vecchio, riusciamo a concluderla per il 31 novembre? Ma questo novembre è un mese piovoso e il cantiere soffre un po' perché la pioggia non permette di poter lavorare, ma insomma dobbiamo andare avanti con i lavori, non so se ce la faremo per il 30 novembre, però ci avviciniamo insomma. Parliamo ora anche dell'ABS di Carniacco perché è stato firmato oggi dai sindacati l'accordo con l'azienda sulla cassa integrazione. Il provvedimento scatterà dal 25 novembre e riguarderà oltre 1.100 lavoratori. Noi abbiamo parlato con Francesco Barbaro della FIM CISL regionale. La procedura di cassa integrazione che è stata sottoscritta in lato odierna dà la possibilità all'azienda di sospendere i lavoratori in cassa integrazione, evitando così il consumo di ferie forzate che avveniva già da parecchie settimane a questa parte. L'accordo prevede non solo la possibilità di utilizzare questo ammortizzatore per sette settimane a decorre dal 25 novembre fino al 15 gennaio, prevede anche che l'azienda anticipi il portamento a carico dell'INTS. È un accordo che ci auguriamo sia sufficiente per gestire questa situazione di crisi, anche se l'azienda ci riferisce che questa fase critica potrebbe perdurare anche nella prima metà del 2020. Pertanto crediamo che l'azienda possa fare anche uso di proroghe nei mesi successivi oltre a questa cassa integrazione. Ma quello che ci preoccupa ancora di più è che abbiamo verificato ad oggi che molti lavoratori dell'indotto APS sono scoperti dagli ammortizzatori e ad oggi rimangono a casa senza utilizzare questo ammortizzatore, consumando non solo le proprie ferie e i propri permessi, ma anche in alcuni casi ci sono situazioni drammatiche dove utilizzano dei permessi non retribuiti. Pertanto stiamo cercando anche di gestire queste fasi critiche di lavoratori dell'indotto APS. L'accordo di Arno quanti lavoratori coinvolgerà? Coinvolgerà tutta la forza lavoro, 808 operai e 303 impiegati, per cui tutta la forza lavoro. La cassa integrazione è chiaramente una disponibilità, un ombrello che l'azienda ha a disposizione per gestire le eventuali giornate dove non c'è, dove ci sarà carenza di lavoro. L'azienda ha a disposizione di gestire la situazione con incontri settimanali per capire quanto utilizzerà la cassa integrazione che verrà aperta appunto il 25 novembre e quanti lavoratori, di che reparti appunto saranno questi lavoratori, oggetto della sospensione. Il Consorzio Grado Turismo sollecita la Regione e il Comune a velocizzare il cantiere per la costruzione delle nuove terme, un'opera su cui l'isola del sole punta molto per il suo sviluppo futuro. Al momento i lavori sono fermi alle demolizioni, eppure il cronoprogramma prevede l'ultimazione nell'autunno del 2021. Dovrebbero essere pronte nell'autunno del 2021, ma di fatto lo stato dei lavori non aiuta a essere ottimisti. Il cantiere delle nuove terme dell'isola del sole è stato allestito per le prime opere di demolizione, ma il Consorzio Grado Turismo teme che il cronoprogramma, che solo per la costruzione vera e propria prevede 30 mesi, non sarà rispettato. Un progetto ambizioso che grazie ad un investimento da parte della Regione di oltre 25 milioni di euro, servirà a offrire servizi sempre più destagionalizzati ai turisti, con una nuova struttura frontemare che unirà due edifici esistenti in continuità con la spiaggia, con piscine, soppalchi, terrazze e spa. Le nuove terme noi gradisi aspettiamo con grande ansia, ho visto nelle ultime settimane che hanno cominciato con la demolizione, ma oggi come oggi vedo tutto fermo. Noi, proprio sotto l'aspetto per il prolungamento della stagione, aspettiamo con grande ansia e con grande piacere che partano i lavori e qui purtroppo non abbiamo informazioni in merito. A mio avviso deve essere la Regione e anche i comuni di grado con maggior attività e devono naturalmente sollecitare. Un tempo fa ho partecipato a un incontro pubblico e era previsto l'apertura per il settembre 2021. Io mi auguro che veramente in settembre, in autunno del 2021, possiamo fare i primi banni. Veniamo ora allo sport. Avanti con Gotti, l'udinese ha preso la sua decisione, come annunciato ieri sera a Udinese Tonight, dal responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Il tecnico veneto siederà allora sulla panchina bianconera nella trasferta di Marassi contro la Samp alla ripresa del campionato. Poi, dopo quella gara, si vedrà, ma non è esclusa, una sua permanenza con la situazione che viene monitorata a vista da proprietà e dirigenza. Avanti con Gotti fino alla Sampdoria. Poi si vedrà. È stato chiaro il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino nel suo intervento telefonico a Udinese Tonight. Una spiegazione chiara è tutto quello che è stato il processo decisionale che ha portato la società e la dirigenza, dopo una lunga valutazione, a confermare la fiducia nel tecnico di Adria. Due i fattori determinanti. Il primo, naturalmente, i risultati positivi e il buon gioco espresso dalla squadra sotto la sua conduzione. Il secondo, un bel processo di empatia che giorno dopo giorno si è sviluppato sempre di più con il gruppo di giocatori. Ed allora si va avanti con lui sino alla gara di Marassi. Poi, strada facendo, si valuterà il da farsi. Marino è stato chiaro. Gotti si è messo a disposizione, assicurando la massima disponibilità a guidare la squadra. Il direttore ha poi ammesso che sono stati interpellati sì altri allenatori, ma nel corso di queste lunghe giornate di riflessione la miglior soluzione è parsa quella di proseguire con Luca Gotti nel solco della continuità. La squadra ha raccolto quattro punti in due partite sotto la sua conduzione, col fiore all'occhiello della bellissima vittoria di Marassi contro il Genua. Contro la Spal, poi, tra un pizzico di cinismo che è mancato e tanta sfortuna, è arrivato uno 0-0 interno salvaguardato dal miracolo in extremis di Musso. Ma l'Udinese non ha una situazione di classifica preoccupante, come ha ricordato sempre il direttore. Mai la squadra è stata impelagata nei bassi fondi della classifica dall'inizio del campionato, tenendosi sempre su per giù nella posizione mediana. Ragion per cui si continua ad andare avanti, valutando l'evolversi della situazione, ma conci che a Genova e chissà ci sarà ancora Luca Gotti in panchina. Siamo in chiusura, dunque prima di salutarci diamo uno sguardo alle prime pagine dei giornali che sono al momento disponibili. Partiamo da il giornale che in apertura ha queste parole. La balla degli asili, un altro blef, non sono gratis per tutti e il provvedimento esisteva già. E poi Berlusconi, italiani costretti a pagare l'Ilva. Continuiamo e andiamo su Libero, che titola così Gli indiani fanno gli indiani e mandano al diavolo. Conte, addio Ilva e posti di lavoro. I proprietari della fabbrica reccedono dal contratto, il premier non sa come uscirne, scrive ai ministri per chiedere dei pensierini, salva Taranto. Nessuno lo segue e Giuseppe resta solo. E poi l'ufficio di bilancio, si legge ancora, la lotta al contante porta all'aumento dell'evasione. Così, appunto, Libero. Proseguiamo e andiamo sulla verità, che scrive La Verità. scopre il nascondiglio della spia ricercata dagli 007 statunitensi. L'intrigo internazionale che fa tremare Giuseppe. E poi Mitsud ha vissuto mesi a Esanatoglia, sui Monti delle Marche, sostiene la verità. In casa del compagno della socia di Scotti trovano riscontri le parole del suo legale. Ora a Conte Gentiloni, al presidente dell'Ateneo dei Misteri, non basta negare, devono spiegare. Così, appunto, sulla verità. E poi andiamo ancora sul foglio, che tra i titoli, partiamo da quello ovviamente in evidenza in rosso, queste sono le parole che leggiamo, la pessima idea di impoverire Milano. E ancora, sotto, per il ministro Provenzano, questa città trae, ma non restituisce, è molto peggio di una gaffe, è un errore teorico e politico. Nell'economia globale vincono le città, e ce ne vorrebbero molte altre, non è colpa del nord, se il sud soffre. Questa, appunto, è una delle tematiche affrontate dal foglio. Vi rimando, come sempre, all'appuntamento, alle sette puntuali di domattina, con la nostra rassegna stampa, in cui potrete confrontare tutte le prime pagine dei principali quotidiani nazionali, anche della stampa locale. Grazie per averci seguito fin qui. Noi vi salutiamo con Cade Oggi, a cura di Guido Gomirato. Il 12 novembre 1978, al Friuli riempito in ogni ordine di posto, allora la capienza era di 22 mila posti, perché dovevano essere ancora allestite le due curve, e doveva anche essere completato il settore dei distinti. L'Udinese affronta il Cagliere. È una gara dal sapore inconfondibile della Serie A, tant'è che entrambe, alla fine, riusciranno a salire nella massima categoria, assieme al Pescara. Il match è vibrante. L'Udinese gioca meglio del temuto Cagliere. È un Udinese che pressa a tutto campo. È l'Udinese di Giacomini, una squadra spumeggiante. È una squadra che, una volta salita al primo posto, riuscirà a mantenere, sino alla fine, questa posizione di privilegio. Per quanto concerne la gara del Friuli, l'Udinese ha giocato meglio del Cagliere. Ha colpito due traverse, con lo scatenato Briz, Uliveri ha avuto anche una palla d'oro per scardinare la retroguardia isolana. Niente da fare. Alla fine esce il segno X, 0-0. Ma i tifosi dell'Udinese sono soddisfatti egualmente, perché hanno compreso che quella squadra aveva tutte le possibilità per ritornare in A, a distanza di ben 17 anni. Così sarà, come ho già ricordato. Quel giorno Giacomini ha mandato in campo la seguente formazione, per dieci undicesimi, la formazione tipo, della Corna, Bono-Raffanesi, Leonardozzi, Felette e Riva, Vagheggi, che sostituiva De Bernardi, Del Neri, Bilardi, Vriz e Ulivieri. In panchina c'era Marcatti, c'era Sgarbossa e c'era Bencina. Quella partita fu arbitrata da un arbitro che diventerà anche internazionale, Carlo Longhi. Una direzione la sua perfetta. Grazie a tutti.